buongiorno cavatori finalmente è arrivato l'ora è arrivata l'ora tanto attesa di cavare il primo rosso vedremo e mercedes si portami a rossi per la selezione effettuata non è disponibile nessun indirizzo ah ti sei dimenticata e mercedes si portami a rossi per la selezione effettuata oggi tempo perfetto per andare alla ricerca del primo rosso della stagione 2024 abita perfetto però è troppo presto adesso condivido con voi il posto del primo ritrovamento dell'anno scorso alla data di oggi no di sotto c'è qualcosa scommetto no nello stesso identico posto nello stesso identico posto è incredibile c'è sotto devo far lì la foto non vuole guardarmi in giro buongiorno 17 maggio 2024 sta spuntando frentino non molla cavata live ore 10 e 06 che emozione il primo rosso 2024 meraviglia delle meraviglie e il trentino non molla stesso posto al centimetro stesso giorno stesso mese manca solo l'anno che è il 2024 il riccio è rivolto la vedremo nei prossimi giorni se c'è sotto le foglie adesso non tocco niente non alterare l'habitat l'abbiamo